Buongiorno a tutti, io per chi non mi conosce sono Lucia Di Donato, la responsabile affari generali di Lega Cop Lazio. Vi racconterò un po' quello che abbiamo fatto in questi anni dopo la fase di commissariamento per cercare soprattutto di rilanciare l'attività dell'organizzazione. Fra le varie cose abbiamo creato proprio questa carta dei servizi che è una carta che noi diciamo abbiamo cercato di mettere in piedi proprio perché ci siamo resi conto che al di là dell'attività istituzionale che viene svolta da parte di Lega Cop Lazio che poi è quella della rappresentanza, uno degli elementi che ci veniva richiesto soprattutto dalle cooperative associate era l'erequazione di servizi perché la rappresentanza è importante però poi spesso le cooperative ci chiedono insomma di essere assistite e quindi di ricevere dei servizi al loro supporto. Quindi io vi cercherò per l'appunto di raccontare quali sono i servizi che vengono messi a disposizione da parte di Lega Cop Lazio non soltanto nei confronti di quelle che sono poi le nostre cooperative associate ma anche nei confronti delle cooperative di nuova costituzione perché chiaramente da noi si rivolgono anche delle persone che comunque intendono per l'appunto costituire una nuova cooperative e quindi hanno bisogno di assistenza. La tipologia dei servizi che viene erogata da parte di Lega Cop Lazio può essere per l'appunto diciamo riassunte in queste quattro macro aree che sono le prestazioni associative che sono per lo più prestazioni gratuite che vengono erogate da parte degli uffici che ci sono all'interno della nostra organizzazione, la cosiddetta rete nazionale dei servizi, gli strumenti di sistema e poi abbiamo una rete di professionisti e di cooperative che sono stati accreditati presso diciamo il nostro albo che hanno delle competenze specifiche in materia di cooperazione. Fra le prestazioni associative che come vi dicevo prima sono delle prestazioni che vengono erogate a titolo gratuito abbiamo l'assistenza alla creazione di impresa quindi l'assistenza alle cosiddette start up. Quando per l'appunto diciamo delle persone intendono costituire una cooperativa molto spesso hanno bisogno proprio di capire come funziona una cooperativa quindi la differenza anche con quelle che poi sono le società di capitali. Quindi venendo nella sede di Lega Coop Lazio hanno la possibilità per l'appunto di essere indirizzate su quelli che poi sono i principali attempimenti ma soprattutto le risorse che sono necessarie per costituire una cooperativa. Viene fatto un approfondimento di quella che è l'idea imprenditoriale e quindi un approfondimento anche su quella che poi è la possibile realizzazione di questa attività e laddove poi le persone decidano di costituire una cooperativa viene dato anche un supporto e un'assistenza sia per quanto riguarda la redazione dello statuto che per quanto riguarda la redazione del regolamento e questo per l'appunto diciamo è importante perché insomma avere comunque una base da cui partire è essenziale. Poi abbiamo l'ufficio politica del lavoro. L'ufficio politica del lavoro che poi è l'ufficio che presiedo io personalmente è un ufficio che si è occupato soprattutto dal 2008 ad oggi quindi negli anni soprattutto più forti della crisi di politiche passive del lavoro quindi principalmente di ammortizzatori e non so se molti di voi lo sanno ma fino al 2009 la maggior parte delle cooperative fatte eccezione per quelle industriali e quelle diciamo relative all'area del commercio non avevano per l'appunto ammortizzatori quindi non accedevano né alla cassa integrazione ordinaria né a quella straordinaria. Quindi la Regione Lazio poi ha introdotto il meccanismo mediante per l'appunto un finanziamento mediante poi finanziamenti previsti da ogni anno dallo Stato ha introdotto la cassa integrazione in deroga che ha permesso a tante cooperative quindi di superare le difficoltà e quindi i momenti difficili che ci sono stati durante questo periodo della crisi. Accanto a questo chiaramente noi diamo assistenza anche per quanto riguarda i cosiddetti contratti di solidarietà, il FIS che è il fondo di integrazione salariale che è partito diciamo da qualche anno quando è stata per l'appunto abolita la cassa integrazione in deroga e poi anche laddove ci sono dei lavoratori che sono licenziati anche magari facciamo assistenza per quanto riguarda la NASPI quindi come si fa ad avere l'indenità di disoccupazione. Accanto alle politiche passive seguiamo anche le politiche attive che sono per l'appunto soprattutto cerchiamo di dare delle informazioni rispetto agli incentivi che vengono messi in campo per le imprese ai fini di assumere delle persone quindi per favorire l'inserimento al lavoro e nel caso dei lavoratori cerchiamo per l'appunto di promuovere soprattutto tutti quei bandi che vengono fatti principalmente da parte della Regione Lazio per favorire l'inserimento magari di lavoratori, di persone che possono essere un po' più svantaggiate tra virgolette come le donne magari i lavoratori di disoccupazione di lunga durata e soprattutto i disabili. Poi un altro servizio importante che facciamo è quello di cercare diciamo con una frequenza abbastanza rilevante di fare dei seminari di approfondimento ogni volta che ci sono delle nuove tematiche quindi ogni volta che magari ci sono delle novità che riguardano le cooperative noi cerchiamo per l'appunto di fare dei seminari, realizziamo dei seminari in cui andiamo a approfondire dei temi che sono rilevanti per cercare poi di far sì che insomma le cooperative siano pronte poi affrontare i cambiamenti che magari vengono previsti da parte della normativa. Prevediamo anche un aggiornamento continuo del nostro sito sul quale voi trovate sia tutte le attività che vengono messe in campo da parte di Lega Cop Lazio ma anche le attività che vengono realizzate dalle stesse nostre cooperative. Quindi se le cooperative realizzano un progetto importante noi comunque lo pubblicizziamo quindi lo mettiamo sul nostro sito e poi ogni settimana vi arriverà la newsletter periodica che poi riassume un po' tutto quello che viene fatto durante la settimana e che trovate all'interno del nostro sito. E poi c'è un'altra funzione che è una funzione istituzionale di Lega Cop, che è quella della revisione cooperativa. La cosiddetta funzione di vigilanza perché nel momento in cui la cooperativa aderisce ad una centrale cooperativa quindi in questo caso aderisce a Lega Cop, la revisione non viene più fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico ma viene fatta per l'appunto da revisori della Lega Cop. E mi sento di dire che la revisione fatta dai nostri revisori è una revisione molto importante non soltanto perché il revisore di Lega Cop così come il revisore del Ministero ha il compito di verificare che la cooperativa sia una cooperativa mutualistica ma dall'altra parte ha anche un altro compito molto importante che non è quindi solo quello della vigilanza ma cerca anche di dare dei consigli alla cooperativa su come magari migliorare la propria gestione interna e se ci sono degli ostacoli cerca magari di aiutare la cooperativa a superare questi ostacoli quindi non soltanto vigilanza ma anche assistenza nei confronti della cooperativa. Questo chiaramente è una prestazione che ha un suo costo ma non ha un costo perché viene previsto da Lega Cop ma è il costo che chiaramente si sostiene perché è previsto per legge quindi se la cooperativa non aderisce alla centrale pagherà questo costo nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico se aderisce alla centrale pagherà lo stesso costo però chiaramente alla Lega Cop. Poi un altro servizio che viene messo a disposizione è la Rete Nazionale dei Servizi la Rete Nazionale dei Servizi è stata per l'appunto creata da parte di Lega Cop nazionale ed è un insieme di circolari che vengono redatte quotidianamente da parte dei migliori professionisti che abbiamo in tutto il territorio nazionale che sono specializzati in fisco e legislazione del lavoro sulla sicurezza e sulla privacy eccetera e che quindi giornalmente producono queste circolari quindi per coloro che sono iscritti a Lega Cop tutti i giorni vi vengono inviate delle circolari che affrontano questi temi quindi sulle principali novità che ci sono dal punto di vista legislativo questi circolari sono molto importanti perché chiaramente sono fatte da esperti che quindi conoscono molto bene la cooperazione e quindi una volta che si aderisce a Lega Cop ci si può registrare sul sito avere una password a cui accedere e ricevere quotidianamente questi circolari chiaramente siccome le circolari sono tante c'è anche la possibilità di creare dei filtri quindi se ad esempio uno non è interessato a ricevere le circolari che riguardano l'ambiente oppure la sicurezza e la privacy basta che si collega sul sito e toglie il flag dove c'è sicurezza e privacy e dove c'è ambiente e quindi riceverà tutte le altre circolari se invece uno è interessato a riceverle tutte non toglie nessun flag e quindi riceverà quotidianamente tutte le circolari in merito poi abbiamo sempre all'interno del nostro sito la possibilità mediante sempre la rete nazionale dei servizi di avere una casella una sorta di casella che viene chiamata l'esperto risponde quindi nel momento in cui voi ricevete una circolare che vi interessa ma magari non vi è molto chiara, continuate ad avere dei dubbi potete per l'appunto fare delle domande all'interno di questo esperto risponde e quindi poi ricevere delle risposte rispetto a quelli che sono poi dei dubbi che vi sono venuti adesso invece vi parlo degli strumenti di sistema gli strumenti di sistema sono per l'appunto degli strumenti che sono sempre a disposizione delle cooperative e nel nostro mondo ce ne sono diversi io principalmente vi voglio parlare di due strumenti che diciamo sono molto importanti anche se ce ne sono altri però mi voglio concentrare su due che sono CopFond e FonCop il CopFond non so se voi lo conoscete però è il cosiddetto fondo mutualistico dove ogni anno la cooperativa una volta che produce, una volta che ha un utile il 3% dell'utile viene versato a questo fondo mutualistico nel momento in cui si è iscritti a una centrale se non si è iscritti a una centrale il 3% andrà per l'appunto allo Stato questo fondo mutualistico che nel caso di Lega Cop e CopFond qual è il suo compito? ha il compito per l'appunto di utilizzare questo salvadanaio che si viene a creare per aiutare la nascita di nuove cooperative o anche per sviluppare, per aiutare per l'appunto le cooperative già esistenti a realizzare dei progetti di sviluppo e in genere interviene su due linee o partecipando al capitale della cooperativa oppure di conseguenza mediante un cosiddetto fondo rotativo quindi un fondo che chiaramente diciamo dà un prestito con un tasso di interesse bassissimo e che nel giro di 6 anni la cooperativa poi deve restituire nei confronti di CopFond poi invece c'è l'altro strumento molto importante che è il FonCop il FonCop è il cosiddetto fondo interprofessionale che è stato creato per l'appunto da Lega Cop, AGC e CONF con i tre sindacati più importanti che sono Cigelle e Cisle e Will il cui compito è quello per l'appunto di realizzare la formazione continua dei lavoratori come viene finanziato questo FonCop? viene finanziato mediante un contributo che tutte le imprese per ogni lavoratore versano che è il contributo dello 030 del Monte Salari che è un contributo obbligatorio che tutti i mesi viene versato all'Inps si può decidere per l'appunto una volta in cui si aderisce a una centrale di poter versare questo 030 che per l'appunto come vi dicevo è un contributo obbligatorio invece di versarlo all'Inps si versa il FonCop e anche in questo caso si crea una sorta di salvatanaio però chiaramente dedicato alla cooperativa e una volta in cui si è raggiunto per l'appunto diciamo un gruzzoletto consistente escono degli avvisi e quindi la cooperativa può per l'appunto partecipare a questi avvisi e richiedere la formazione dei propri lavoratori per ultimo invece che cosa abbiamo cercato di fare per dare un'aggiunta a quelli che poi sono i servizi posti in essere da parte di LegaCop abbiamo creato una sorta di rete di professionisti e di cooperative quindi che cosa abbiamo fatto? ci siamo resi conto che poi ogni giorno ci vengono rivolte da parte delle cooperative domande, richieste magari di chiarimenti a cui non sempre siamo diciamo pronti a rispondere quindi che cosa abbiamo fatto? abbiamo creato un albo in cui abbiamo accreditato tutti i professionisti che chiaramente devono avere determinati requisiti che sono specializzati in materia di cooperazione e che una volta che sono stati per l'appunto accreditati nel nostro albo hanno praticamente diciamo erogano nei confronti delle cooperative dei servizi a tariffe calmerate rispetto a quelli che poi sono i prezzi di mercato e chiaramente questi professionisti li abbiamo accreditati su diversi ambiti e diciamo le caratteristiche che chiaramente diciamo i requisiti che abbiamo richiesto a questi professionisti sono sicuramente le capacità tecnico-professionali requisiti chiaramente di integrità morali il fatto che pratichino delle condizioni diciamo vantaggiose nei confronti delle cooperative e poi soprattutto la cosa fondamentale è la conoscenza della cooperazione perché ci siamo resi conto negli anni che spesso ci sono magari avvocati commercialisti anche consulenti del lavoro che sono magari molto preparati anche molto bravi però poi a livello di cooperazione non hanno la preparazione diciamo adeguata perché il mondo della cooperazione non è molto conosciuto da questi professionisti ad oggi noi abbiamo accreditato 19 professionisti accanto ai professionisti che cosa abbiamo anche accreditato? Abbiamo accreditato una parte delle nostre cooperative associate perché un'altra cosa di cui ci siamo resi conto è che spesso le cooperative fra loro non si conoscono quindi magari aderiscono alla stessa centrale cioè aderiscono all'Ega Coppa ma spesso non tutte le cooperative sanno che cosa fanno le altre cooperative quindi che cosa accadeva? Che magari io cooperativa ho bisogno di realizzare un progetto non so progettare vado all'esterno e prendo questo servizio magari da un privato da un'altra società che mi dà questo servizio perché io non sono in grado di progettare quando vuoi poi magari non so che accanto a me c'è un'altra cooperativa che invece magari è specializzata in progettazione e quindi magari io vado sul mercato spendo anche più soldi per avere qualcosa che magari una cooperativa che come me aderisce all'Ega Coppa potrebbe darmi questo servizio quindi abbiamo per l'appunto diciamo fatto una ricognizione fra le nostre associate cercando per l'appunto di fare una rete fra le cooperative che fossero per l'appunto specializzate in determinati ambiti e principalmente gli ambiti sono questi tre formazione, progettazione e servizi per il lavoro l'internazionalizzazione e poi l'innovazione e la ricerca e anche nel caso di queste cooperative che noi abbiamo per l'appunto accreditato che in tutto sono 12 abbiamo chiaramente richiesto di fare di applicare delle talifiche che al mirate nei confronti delle altre cooperative aderenti all'Ega Coppa invece per quanto riguarda i professionisti abbiamo 19 professionisti e ne abbiamo 5 nell'area di consulenza legale e amministrativa 8 nel caso nell'area della consulenza fiscale e tributaria 3 nell'area della consulenza del lavoro 2 su coloro che fanno la consulenza per i worker buyout quindi per le diciamo per le nuove cooperative che nascono diciamo dall'unione dei lavoratori che chiaramente diciamo cercano di recuperare un'azienda che magari è andata male e poi abbiamo anche una convenzione col notaio che è molto importante soprattutto quando si devono fare le modifiche statutarie oppure quando ci si costituisce quindi questo per quanto riguarda i nostri professionisti poi inoltre abbiamo anche creato delle convenzioni abbiamo fatto 3 convenzioni molto importanti uno con lo sportello assicurativo dell'Unipol che quindi diciamo fa in pratica nei confronti delle nostre cooperative delle tariffe calmirate soprattutto quando devono essere realizzate delle polizze in caso di fideiossione eccetera poi abbiamo creato anche una convenzione molto buona con Banca Etica quindi per avere magari un accesso al credito perché uno dei problemi che riscontiamo maggiormente e che ci pongono le nostre cooperative è proprio la difficoltà di accedere al credito e quindi con Banca Etica stiamo riscontrando almeno questo ritorno che abbiamo da parte delle nostre cooperative che comunque diciamo riescono ad accedere al credito più facilmente e poi abbiamo creato una convenzione con la CGL col CAF della CGL che diciamo da eroga un'assistenza nei confronti dei soci delle cooperative se hanno bisogno magari di redigere il 730 effettuare il modello ISE eccetera oppure fare l'unico e poi invece abbiamo ripreso anche una serie di convenzioni che però queste sono state stipulate da parte di Lega Coppa nazionale ai quali comunque anche le nostre cooperative quindi le cooperative che aderiscono alla Lega Coppa possono accedere che riguardano sempre le assicurazioni i carburanti c'è una convenzione con l'Eni poi anche per quanto riguarda gli hotel la telefonia i trasporti quindi tutta questa serie di convenzioni che potete per l'appunto vedere delineate che vedete delineate nella slide quindi abbiamo fatto ecco questa questa carta di servizi proprio perché cerchiamo per l'appunto insomma di potenziare sempre di più i servizi che vengono erogati nei confronti delle cooperative associate quindi insomma visto che poi cerchiamo anche di rilanciare i territori in questo caso stiamo cercando anche di rilanciare il territorio dei diriedi insomma ben vengano anche delle proposte osservazioni da parte vostra grazie